Sarà a suo modo una rivoluzione quella che si prepara nella centralissima piazza 20 Settembre a Pordenone. Longo uno dei lati della piazza il comune pianterà un filare di alberi e aiuole. La trasformazione green partirà verso metà gennaio per una durata dei lavori di circa due mesi. Il sindaco Alessandro Ciriani, in isolamento domiciliare in quanto positivo al Covid, non ha voluto rinunciare a presentare la novità durante una conferenza stampa online con gli assessori Amirante e De Bortoli. Piazza 20 Settembre nel passato era un parcheggio, poi è diventata una distesa anonima senza identità. Il problema che molti pordenonesi ci hanno sollevato, ma insomma era abbastanza evidente, è quello di renderla più vivibile, più godibile, più fruibile e più funzionale. L'incarico che abbiamo dato a questo professionista ci consentirà di avere non solo un tocco verde, ma un arredo urbano caratterizzato dal verde che permetterà di rendere Piazza 20 Settembre esteticamente più piacevole, più vivibile, ma anche decisamente più funzionale. Credo che abbiamo trovato una soluzione, tra virgolette, rivoluzionaria per consentire di conciliare lo svolgimento dalle tante manifestazioni, speriamo di poterle tornare a fare al più presto, che caratterizzano Pordenone e dall'altro lato la godibilità ogni giorno, in ogni stagione, di una piazza così grande. E se Piazza 20 Settembre sarà più verde, Piazza Duca d'Aosta lo è già diventata. In questi giorni il Comune sta piantando alberi e arbusti che oltre ad avere uno scopo estetico hanno anche una funzione anti-smog di assorbimento delle polveri sottili.